Tuoi grandi partiti aviammi dinanzi quello di tentare la salvezza della patria con la violenza a cedere io stesso alla spinta generale. Fui costretto a pigliarmi a quest'ultimo. Amici e nemici, quando vogli e malavoli tutti aviano inalberato il capo contro di me. Io rimassi solo davanti dei vetti sociaceri, caduto una volta e recaduto per sempre, perché io non sono uomo da mezzi mesi. E poi la sovranità non si lascia, né si riprende come fosse un mattelo. L'altro partito richiedeva un straordinario vigore. Si sarebbero trovati grandi coppavoli e avrebbe fatto uopo di grandi castigli. I sanghi potevano scorrerli. A Torenti, ne ci era dato prevedere, io vi ci saremmo fermati. Quali segni non potevano rinnovarsi. Non mi esponeva io per tal modo ad... I migeri a tuffare la mia memoria, io a quella gora di sanghi e dei delitti, da abominazioni, dogni fatte che l'odio, le satire, i libelli accumulavano sopra il mio capo. Giù facendo avrei giustificato tutto quello che piacca loro diventare sul mio conto. Io diveniva paiposteri e per la storia dei neuroni e il diverio dei tempi nostri pazienza. Almeno se a tal prezzo avessi salva la patria e mi sentiva detanto, né in me sarebbe venuto manco il coraggio. Ma era poi ben certo che l'Egitto si avrebbe corrisposto. Tutti i nostri percogli non venivano sia dal di fuori, poiché i nostri interni discordili avanzavano di gran lunga, non vedevassi tutto di una turba di insensati disputari, rabbiosamente sull'immense tinte prima di aver resse corrato il trionfo del colore che mai sarebbe entrato nella persuasione che io non operassi per me solo e per i miei personali vantaggi che di essi sarebessi convinto dal mio disinteresse e che io solo comettevo per salvare la patria a chi avrei potuto far concepire tutti i pericoli e sciaguri che cercavo allontanare da essi. Questi vali e questi sciaguri apparifano chiari e manifesti al mio sguardo, ma il volco li ignora sempre fino a che non rimanga schiacciato dal loro peso che sarebessi risposto a chi avessi gridato. C'è quello di nuovo, il disporto, il tirano, è viola oggi, giuramente di ieri, e chissà mai se in questi, con ovviamente in questo, in estricabile, in vero dopo io non sarei forse caduto sotto il colpo di un mano francese nel conflitto civile allora che diventava. Ma le nazioni agli scordi dal mondo e nell'estima delle più remote generazioni e per che la sua gloria consistì tutta nel sentimento ai miei principi. Io non avrei per fermo potuto fare tante cose per l'onore suo per il suo lustro. Se siete lì e il suo malgrado, tali ipotesi mi renderebbe troppo grande alla storia. Mia giova a ripeterlo sia la storia l'ardua sentenza dopo questo caldo episodio ritorno sulle disposizioni e i suoi particolari della campagna, fermandosi con compiacenza sul suo glorioso esordire e con angoscia sul terrabile rovescio che aviavi posto finito. Grazie a tutti.